Buonasera, sono la professora concessionaria Perito Group e oggi ti propongo la Chevrolet Averone 2 Benzina, immatricolata nell'anno 2013. Che dire, a primo impatto mi sembra una colettura molto elegante, ma anche una linea molto comoda. Da vedere c'è il lega 15 pollici e in un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo è il bagagliaio. Come puoi vedere, nonostante la macchina comunque non è di grandi dimensioni esteticamente, ha un bagagliaio comunque molto spazioso e inoltre è da notare anche i sedili ribaltabili. Questo permette comunque di deliberare tantissimo spazio. E ora penso sia il momento di andare su strada della Chevrolet Aveo. Innanzitutto vorrei sottolineare che nonostante la grandezza ridotta della macchina, ha tantissimi comfort. Da sottolineare non solo i comandi al volante, ma anche il cruise control. Inoltre possiede airbag anteriori e posteriori, il portaocchiali lato guidatore, la radio CD, ma la cosa importante è il passenger airbag, che permette di disattivare l'airbag lato passeggero nel preciso momento in cui si porta nell'abitacolo un bambino. Che dire, la guida è molto comoda e a mio avviso sarebbe una macchina comoda soprattutto per neopatentati, ma anche e soprattutto per questa macchina. È bellissima da guidare, quindi ti consiglio di venire in concessionaria ad effettuare un test drive dell'autovettura. Io mi chiamo Simona, lavoro per la concessionaria Perito Group e il nostro numero è 0975 520 350.